Cari amiche e cari amici, buongiorno. Parliamo di cucito? Vogliamo parlare di cucito? Oh, ma com'è? E cosa c'entrano questi libri? Sono due, non è uno, sono due libri. Adesso ve lo racconto cosa c'entrano questi libri con il cucito e con un ago particolare e con un filo particolare e con tutta una procedura da seguire molto affascinante per me e credo non solo per me. E perché ci sono proprio degli amatori a riguardo di questo argomento. Il cucito? Sì, il cucito, il cucito, il ricucire libri. Ah, ve l'avevo accennato, che stavo frequentando l'associazione, la frequento da anni, l'associazione Itineral Cultura. Quest'anno mi sono proprio iscritta e ho seguito gli appuntamenti buffi, perché non sono delle lezioni normali. Guardate che non è un ambiente normale quello lì, ve lo dico. Ah, ecco, gli appuntamenti buffi in associazione Itineral Cultura. È uno spazio molto bello, Viterbo, distribuito su due spazi, su due ambienti. Allora, due livelli. Nel primo livello, piano terra, c'è lo spazio espositivo, dove si possono guardare, studiare alcune delle opere del professor Mascagno. È uno spazio chiacchiera e quindi lì si svolgono delle cene a tema, con momento teatrale. Ogni tanto vi ho condiviso dei link riguardo agli eventi organizzati dal maestro Mascagno, dal professor Mascagno. È anche uno spazio appunto di chiacchiera. Noi con alcune amiche abbiamo partecipato a dei tè, il tè del giovedì, che belli. Con tutto un momento prima di divulgativo, si parla di arte, storia dell'arte e non solo. Di presentazioni di libri. Cosa vi volevo dire? Aspettate. Cosa abbiamo fatto di bello là? Tante cose. Io le cene purtroppo non posso andare perché non ho il mezzo per tornarmene a cà. Ecco, anche i giorni festivi non ci si può muovere da questo paese se non con i tacchi e suole e i bastoncini da Nordic Walking, per quello che mi riguarda. Allora, nello spazio soprastante, invece, a questa bella sala con vigni, chiacchiera, cene e tè, vi è il laboratorio. Il laboratorio dove il maestro Mascagna, poi prima dico maestro, il professore, il professore Mascagna, fa le sue cose, beh, perché questo spazio, questa associazione è anche casa editrice, tra le altre cose. E lì si fanno, si aggiustano libri, si restaurano libri. Per quel che mi riguarda un restauro conservativo. E adesso vi spiego, eh, vi spiego, vi spiego. Allora, vedete questo libro, che è un libro del 44, mi pare, sì, eccolo qua. Ecco, questo libro è piuttosto disastrato. Allora, qui abbiamo i mazzetti, che sono stati, li chiamano sedicesimi. Poi tutta questa parte teorica mi manca, eh. Allora, sono mazzetti cuciti. La rilegatura, in realtà, più che legare, si cuciono e poi si assemblano questi mazzetti, vedete qua. Ci sono tutti dei residui che vanno eliminati, ci sono tutte delle parti che vanno asportate e poi ci sono delle considerazioni da fare in virtù della tipologia del libro e delle proprie intenzioni, come lo si vuol vedere questo libro. Ecco, vedete queste parti, i fili. Ecco, c'è da fare tutta una pulizia. E tutto quello che è cucito va scucito. Però bisogna mantenere i mazzetti originali, bisogna stare attenti a non scombinare l'ordine delle cose, beh. Ecco, io mi sono occupata proprio di questo con il mio libro. In più, ecco, vedete, questo ha tutte le sue parti originali. Anche se, vedete, la copertina, la prima di copertina è completamente slegata da tutto il resto, così come anche la seconda e via. Abbiamo la prima e abbiamo... No, l'ultima non ce l'abbiamo. Ecco, manca la... In questo caso manca l'ultima. Ecco, ci manca l'ultima di copertina qua. Vedete il timbettino? Come fai a dirlo? Eh, perché qua vediamo dei residui di adesivo, di colla, vediamo i filetti e quindi qua c'erano almeno un altro mazzetto sicuro, se non solo la copertina. Allora, adesso questo lo mettiamo da parte. Io mi sono occupata di questo libro che era molto, molto più disgraziato di questo. Tante pagine molto rotte, la parte della costa veramente massacrata, mancava, è venuto a mancare, perché quando l'ho recuperato questo libro da un rogo, un frammento, un frammento della copertina lo aveva. Ecco perché poi ho scelto questa nel restauro conservativo, perché in rete ce ne sono almeno due, credo, che riguardano questo libro. La prima, la prima edizione mi pare non avesse questa. Io mi ricordavo questa, il coniglio, questo coniglio sulla copertina che poi è andata perduta durante il trasloco, ma era un frammento proprio fragile. Allora, di cosa mi sono occupata? Della pulizia di tutti i mazzetti, di eliminare tutti i residui di filo, un cotone, e di ricucire, ecco perché parliamo di cucito. Ho utilizzato un filo forte e un ago per non vedenti. Mi hanno insegnato come si prepara, cosa considerare. C'è molto istinto, diciamo, in questo lavoro. Serve molta pratica per essere precisi, perché non c'è la possibilità di seguire proprio delle regole. Bisogna barcamenarsi tra le fratture proprio, le mancanze, l'erosione della carta e seguire un ordine anche nella legatura dei mazzetti. Insomma, è stato interessante perché bisogna stare molto attenti, veloci in alcuni momenti e con pazienza in altri. Anche lì ho imparato tante cose riguardo alla colla, riguardo alle colle, alla carta, a cosa guardare, su cosa ragionare e come usare le mani. Altri strumenti come righe, taglierini, carte, cartoncini, telette, tarlatane che qua si intravede. Vedete, la tarlatana, le amiche ricamatrici la conoscono sicuramente. Questa è una tarlatana da rilegatura. Lì intravedete i miei interventi di cucitura. Così la tarlatana si può essere ancora più precisi, ma questo dipende molto dalle condizioni della carta. Vedete un altro intervento sotto alla tarlatana che è questa carta molto sottile. È stata scelta anche in base al colore delle pagine, perché erano veramente molto rovinate le pagine. Non avrebbero retto un assemblaggio cucito. Si parla appunto di restauro conservativo, proprio per l'utilizzo di questi materiali. Che un po' a vista rimangono, mentre come potete notare, nella parte centrale non si intravede proprio niente. Non vedete, intuite la cucitura, ma non vedete niente proprio. Non si vede nulla. E c'è stato da dire e da fare nel mettere insieme tutti i mazzetti, proprio per le condizioni diverse. Perché era tutto fuori asse, tutto quasi completamente slegato. L'ho dovuto aprire tutto, ho dovuto proprio separare tutti, 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 tutti. I mazzetti erano molto, alcuni erano proprio, mamma mia, concida paura. E per quanto riguarda la copertina, abbiamo ragionato sul materiale, quindi su che tipo di cartoncino, sul colore del cartoncino. E' stata fatta una riproduzione, vedete anche la stortatura, diciamo, non è stata proprio centrale. Perché non è stato facile trovare la riproduzione ben ripresa della prima copertina. Della copertina, questa è una fotocopia in bianco e nero. La copertina era in bianco e nero nella seconda edizione. Mentre nella parte posteriore è stata applicata l'ultima di copertina, l'ultima pagina. E' stata rifilata in modo da eliminare tutte le parti veramente massacrate. Qua ne vedete un particolare. Da centrare, da realizzare un oggetto. Mi è caduto poco fa, ho preso una botta, povero libro. Ecco, la copertina protegge, vedete, tutte le pagine. Non è semplice mettere i mazzetti a posto, perché ho dovuto fare degli interventi e non da poco di costo. No, non voglio far vedere delle immagini cruente. E' un libro scritto da Mario Spagnoli, che è uno dei figli di Luisa Spagnoli. Lui ha dedicato, vedete che in questo angolo manca un po' la carta, queste parti si lasciano così, non vengono toccate. Ecco, ora vi faccio vedere la dedica del figlio alla mamma. All'interno, vedete che è l'originale, c'è la stampa a secco su questa pagina. L'unica cosa che ho dovuto riprodurre, l'unica parte che ho dovuto riprodurre tramite fotocopia è stata la copertina. E' un libro molto tecnico, non è un romanzo, non è una dedica romantica alla madre, non c'è una visione romantica del lavoro, anzi è molto cruda. Diciamo che il recupero delle fibre tessili dal coniglio d'angora non è cruento. C'è una foto storica che molti avrete visto, che riguarda il cortile dell'industria, del laboratorio dove poi venivano prodotti i filati d'angora, dove una fila di ragazze con la loro bella divisa, tenendo in grembo ognuna un coniglio, recupera le fibre, sarebbe il sottovello, dai conigli tramite pettine. Oh un uccellino, oh mamma, speriamo che Oreste non vada. Ecco, i conigli cambiano la muta, sarebbe questa peluria dolcissima che copre la pelle tra le setole. Credo anche loro un paio di volte l'anno, almeno credo di sì. Adesso non mi ricordo la mia Teresa quando iniziava a fare tutto con la fuffa per casa, la Teresa è la coniglietta che abbiamo avuto ospite con Camilla bambina per otto anni, quindi non c'è nessuna pratica cruenta, però viene illustrato proprio l'allevamento del coniglio in generale, credo anche il coniglio da ciccia, non ho proprio approfondito, sono anni che ho questo libro, dal 2009-2010 che ho questo libro, e ci sono delle foto che fanno veramente paura, c'è anche la castrazione dell'animale, le gabbie, gabbiette, gabbione, ecco come dove venivano ospitati, tenuti rigorosamente nel pulito, quello sicuramente, guardate che bello, questo è lui, il coliglio d'angora, come si riconoscono, insomma come potete notare c'è molto da dire al riguardo, ecco sono contenta, ho scelto fra tanti libri massacrati che ho recuperato nel tempo, ho scelto proprio lui perché lo utilizzerò per alcune chiacchiere poi, perché mi sembrava bello cominciare con un libro che ha a che fare con il mio amore, grande in questo mondo che ci contempla un po' tutti, che ci riguarda un po' tutti, che è la realizzazione dei filati, e l'angora è un filato che io ho cominciato ad apprezzare da bambina, perché mia madre realizzava anche su commissione scarpine per bebè infilato da angora, angora 100% che è una roba preziosa che vola da tutte le parti, ma sapete che le scarpine di lana venivano messe all'interno delle ghettine, quindi non volava proprio niente, una volta che il bambino, il bebè, veniva calzato con queste meraviglie, ecco il piedino poi rimaneva all'interno delle ghettine, le case erano molto meno riscaldate da adesso nonostante tutte le restrizioni, quindi sono contenta di parteciparvi questa mia opera, questo mio impegno, in autunno penso che proseguirò con il restauro, io quest'estate avrò molte cose da portare avanti, poi non mi sposto con il caldo, purtroppo gli orari degli autobus mi obbligano ad orari, ma anche l'orario di frequentazione dell'associazione, insomma sono le prime ore del pomeriggio, io d'estate schianto, ecco quindi penso che maggio mi vedrà solo salutare con le amiche del corso, che poi si intrattengono veramente relazioni simpaticissime e tutto il mio progetto di restauro lo porterò avanti di nuovo da settembre in poi, ecco pure da quando le temperature mi permetteranno di andare a zonzo senza rischiare un collasso, ecco, bene sono contenta, vi auguro una buona giornata, vado a preparare il mio pranzo, voi con cosa vi siete nutrite oggi, ho scongelato un trancio di pesce, ho le coste piatte preparate ieri sera, le coste di bietta, le coste piatte sono quelle belle, costone bianche, larghe, doppia cottura, pentola sul fuoco, la stufa spenta, ieri sera la volevo accendere ma è attaccata a piovere proprio nel momento in cui stavo pensando di scendere a recuperare la legna ma veniva giù uno sgrullone, quindi ho usato il fornello, ce l'ho i fornelli, intanto mi ricordo che li ho, quindi acqua fredda come dice la spisni del mio corazzone, acqua fredda, le verdure bianche, acqua calda, bollente, salata per le verdure verdi, quelle che necessitano di cottura o sbollentamento per non perdere il colore e quindi ho buttato prima le coste, recuperate le coste quando sono state pronte nella stessa acqua già calda e bogida, ho aggiunto un pizzichino di sale e ci ho buttato la parte verde che ho appena appena sbollentato, a volte le faccio in padella direttamente, bene adesso ci andiamo a preparare appunto la pappa che saranno le coste condite con olio e limone, il pesciolino sbollentato e l'insalata di verza è arrivato il mio vicino e minufa le feste, ciao a presto, e lui ogni tanto vi va dal gatto